Cirilla di Sintra Finalmente soli? Beh, non proprio. Ho portato qualche amico stavolta. La volta scorsa ti ho battuto con l'astuzia. È ora che provi la mia magia. Tutti con me! Veloci! Ho portato rinforzi! Sì, ma noi di più! È troppo facile! Cazzo! Fai! La tua maga non è all'altezza. Gli elfi sono qui per siri. Andiamo! Andiamo! Ehm... Tieni, vediamo... Sì! Grazie a tutti